La parola di oggi è silfide. La silfide è una figura femminile della mitologia germanica. È il nome dato a geni femminili, le corrispondenti figure maschili si chiamano silfi, geni dell'aria o anche dei boschi e dei campi, ritenuti nelle tradizioni popolari della Germania e delle zone alpine esseri ora benefici, ora e più spesso malefici e pericolosi. Il medico e alchimista svizzero Paracelso, vissuto all'inizio del 1500, ne narrò ampiamente le gesta e può essere considerato l'inventore del termine. Secondo lui le silfidi appartengono all'elemento aria e per questo sono rappresentate come figure di una leggerezza evanescente. Le loro caratteristiche per quello che ne riferiscono i miti sono queste. Essere viventi nel vento che si spostano nelle correnti aeree, creature timide, spesso ingannevoli, specie quelle femminili, pur non mancando da allora di apparire dolci, comprensive e utili. Nella letteratura compaiono abbastanza spesso e il nome più conosciuto è il silfo Ariel, immortalato nella commedia La tempesta di Shakespeare, che descrive questi esseri con le loro stesse parole. Noi siamo della sostanza di cui sono fatti i sogni e la nostra stessa vita non è altro che un sogno. La rappresentazione della silfide come una fanciulla longilinea dalla pelle diafana, agile e quasi fluttuante nell'aria, ha generato l'uso figurato di questa parola per rappresentare generalmente una ragazza di corporatura sottile, elegante, dalla silhouette snella e dal portamento agile. Frequenti le frasi. Quella ragazza è una silfide, sembra una silfide o, al contrario, quell'uomo gonfio di birra non è certo una silfide. Una dotazione forse non conosciuta da molti. Nel 1832, a Parigi, si tenne alla prima del balletto La Silfide, con la coreografia del noto coreografo Filippo Taglioni. È interpretato nel ruolo della protagonista dalla figlia Maria Taglioni, abilissima nel ballare sulle punte, dando l'impressione di volteggiare nell'aria. Questo balletto, detto anche Ballet Branc, per le sue connotazioni estetiche, segna l'inizio del balletto romantico e possiamo definirlo rivoluzionario, in quanto per la prima volta la ballerina sale sulle punte quasi nella totalità dell'opera ed è vestita in un candido toutou disegnato appositamente per lei. È infatti il primo balletto in cui compare questo tipico costume da ballerina, il toutou appunto, creato per la Taglioni da Eugène Lamy. È rimasto quasi identico fino ai nostri giorni. Dalla Silfide in poi, in quasi tutti i balletti di repertorio, vi sarà il cosiddetto atto bianco, nel quale la protagonista e il corpo di ballo danzano con il toutou.